la libertas della Repubblica che era dominata, oppressa da una faczio. Queste parole fra l'altro sono riprese di peso dall'inizio del primo commentario cesariano della guerra civile, là dove Cesare giustifica alle truppe con cui sta per varcare Rubicone, arrivare a Rimini e cominciare l'invasione dell'Italia, le parole con cui Cesare giustifica quello che sta facendo. La Repubblica è sotto il dominio di una faczio senatoria, non di Pompeo, il mio compito è di salvare la libertas della Repubblica e anche la mia dignitas. Quindi richiamarsi alle parole esatte con cui Cesare ha deciso di varcare Rubicone, cioè di mettersi contro l'autorità dello Stato, per salvare la libertas dello Stato significa rivendicare la giustezza dei comportamenti illegali da lui compiuti nel 1943 per salvare la libertas della Repubblica, cioè l'atto eversivo che ha come finalità in realtà il ripristino di una legalità. Perché queste parole vengono pronunciate in apertura, appena si srotola questo papiro e i senatori sono lì che stanno per sentire Augusto che parla da morto, perché è una voce dall'aldilà, quella che viene letta da Druso. Perché vuol far capire chiaramente che questo potere è nato così e se qualcuno vuol metterlo in discussione siamo pronti a ripetere questa operazione, che è stata già fatta due volte, nel 1949 e nel 1943, a distanza di non molti anni, prima da Cesare e poi dal 19enne Ottaviano. E quindi il Senato è abbastanza intimidito da questa lettura. Poi naturalmente tutto il resto racconta, ho restaurato 82 templi, ci sono tanti, per quanto Roma fosse ormai una metropoli, ma 82, a significare che la restaurazione religiosa, quindi il mos maiorum, la religione tradizionale, eccetera, era una delle sue principali cure, e poi la popolazione di Roma, e poi i consolati ricoperti, e poi il ripristino della Repubblica, il famoso capitolo 34 del Resgeste, in cui si dice che dopo aver pacificato le guerre civili, avere vendicato il padre, avere respinto il pericolo esterno rappresentato da Cleopatra, cioè dall'Egitto, che certamente non minacciava l'impero romano, ma era un modo per non dire che quella era un'altra guerra civile, quella contro Antonio, ho restituito al Senato, al popolo romano, la Repubblica. Poi, data la mia bravura, la mia auctoritas, eccetera, mi è stato dato il titolo di Augustus. Augustus, che vuol dire Augustus? Da augeo. L'equivalente greco, nelle Resgeste, ma anche poi nella storiografia successiva, è sebastos, che vuol dire l'uomo che deve essere venerato. Quindi uno storico greco come Appiano dice ma bel tipo questo, che si è fatto venerare come Dio già da vivo, il padre almeno da morto, ma lui già da vivo. Ma nella forma destinata ai sudditi di lingua greca, sebastos va benissimo. Ci sono epigrafi in cui i magistrati, i promagistrati, magistrati in Grecia, per esempio, o nella provincia d'Asia, dicono Augusto porta il Vangelo, porta la buona novella, to evangelion, perché nel mondo parlante greco, nel mondo ellenistico, la regalità è connessa a questa divinizazione in vita. Per il mondo romano sarebbe impossibile, e quindi Augustus, che è una parola molto ambigua, però è di fatto un rango, è una sorta di primato al di sopra di tutti i magistrati. Non si accontenta di questo, e quindi si fa rieleggere console tutti gli anni. Dal 1933 al 1923, ininterrottamente, già lo era stato nel 1943, quando aveva fatto il colpo di Stato, uno si può domandare come è che veniva rieletto tutti gli anni? Perché le elezioni si possono anche vincere a tavolino, dipende dai rapporti di forza. D'altra parte, il luogo dove si svolgevano le elezioni a Roma si chiamava Ovile, quindi questo è un po' un po' sgradevole, però insomma, il recinto dove avveniva questa operazione, truccatissima di queste elezioni, di cui si conosceva in anticipo il risultato, si chiamava così. Ma la cerimonia in Senato, come Tacito la descrive, prosegue, nel modo che ora vi leggerò brevissimamente, Tacito si compiace di raccontare questa scena perché vuol mettere in rilievo un meccanismo che lui ha studiato a fondo, direttamente durante il dominio di Domiziano, quindi non è un'esperienza letteraria, è un'esperienza di vita per lui, la servitù spontanea, cioè il precedere il potere offrendosi al potere. si presero decisioni sulle onoranze funebri e tra esse quelle risultate più significative furono, è tutto il Senato che discute come onoriamo Augusto appena morto, tra le più significative decisioni prese furono quelle di far passare il feretro sotto un arco di trionfo secondo la proposta di Asinio Gallo, un senatore, che in realtà è un congiunto di Asinio Pollione, cioè di un leader d'opposizione il cui erede politico, oltre che familiare, è già schieratissimo, è lui che propone, sotto l'arco di trionfo, è quella di mettere in testa al corteo la denominazione di tutte le leggi fatte approvare da Augusto e i nomi dei popoli da lui vinti, secondo la proposta di Lucio Arrunzio. In aggiunta, dice Tacito, Valerio Messalla, anche questo è una famiglia repubblicana, Messalla Corvino, Valerio Messalla, è un figlio, un nipote, chiedeva un giuramento di fedeltà a Tiberio da rinnovarsi tutti gli anni. Quindi questi stanno discutendo di come fare i funerali di Augusto, ma Valerio Messalla si alza la mano, interviene e dice propongo che tutti gli anni noi giuriamo fedeltà a Tiberio. Alla domanda di Tiberio, se egli avesse avanzato la proposta dietro suo incarico, gli dice ma te l'ho chiesto io di fare questa proposta? Sversante. Egli rispose trattarsi di iniziativa del tutto personale e che sugli affari di Stato non intendeva seguire altro consiglio che il proprio, anche a rischio di farsi dei nemici. L'orgoglio del servo, Tacito commenta era l'unica forma di adulazione ancora inedita. Ea sola species adulandi supererat. Micidiale, perché è come dire, ho in mente il catalogo di tutte le forme di asservimento spontaneo, questo è un tassello che mi mancava, ma eccolo qui. colui che propone la cosa più impegnativa perché ora parte il servilismo ma è molto impegnativa nel senso che mentre avviene questa scena Tiberio è ancora il figlio adottivo erede per tre quarti, è stato letto il testamento di Augusto che prevede tre quarti a Tiberio e un quarto a Libia. non è il princeps, potrebbe esserlo, formalmente non lo è ancora e quindi la proposta di Valerio Messalla è una proposta che anticipa addirittura quello che lui prevede che avverrà. Tiberio lasciò fare tutte queste iniziative. I senatori proposero per acclamazione di portare loro sulle spalle il feretro scalzi, scarmigliati perché in lutto il ceto senatorio cioè il più potente ceto del mondo all'epoca non soltanto del mondo romano. Lasciò fare con arrogante modestia dice Tacito adroganti moderazione un psicologo del potere forse insuperato con arrogante modestia e attraverso un editto invitò il popolo che già in passato aveva turbato per eccesso di esaltazione il funerale di Cesare durante il funerale di Cesare ci furono tumulti assalto alle case degli attentatori incendiato il feretro e quindi un incendio che devastò una parte di Roma fu una sommossa di carattere anche sociale perché la plebe romana stravedeva per Cesare e detestava i suoi assassini quindi quindi saggiamente Tiberio che conosce questi antefatti fa un editto per impedire che al funerale succeda qualcosa di simile invitò il popolo che già in passato aveva turbato per eccesso di esaltazione il funerale del divo Giulio a non voler pretendere di cremare il corpo di Augusto nel foro il giorno delle esequie qui è sempre tacito che scrive ci fu uno spiegamento di soldati in servizio d'ordine tra la irrisione di quanti avevano visto di persona o avevano appreso dai padri quell'indimenticabile giorno cioè dei funerali di Cesare di una servitù ancora acerba e di una libertà riaffermatasi senza successo che è tranquillamente un giudizio sulle idi di marzo cioè il giorno in cui Cesare viene ucciso è un giorno di servitù ancora acerba nel senso che la gente non era stata capace di scrollarsi di dorso la dittatura e di libertà riaffermata senza successo perché già in due giorni avevano perso la partita i cesaricidi ed è un giudizio da parte di Tacito di piena adesione al cesaricidio questo per chiarire Cremuzio Cordo gli ultimi dei romani eccetera dopodiché Tacito descrive nei funerali quello che si diceva in un senso e nel senso opposto leggeremo leggeremo qualche rigo della seconda parte che è molto più ampia della prima quella negativa diciamo così e infine c'è la scena di Tiberio che celebratasi tutta questa cerimonia deve chiarire la sua posizione chi è rispetto al senato chi è rispetto alla repubblica restaurata quest'uomo che a nome del defunto governa il senato la restaurazione repubblicana come sapete è il capolavoro di Augusto il quale non ha avuto il carisma di Cesare mai in nessuna fase della sua vita perché il capo carismatico di cui si parla con leggerezza anche in tempi nostri ogni tanto qualcuno scopre di essere o qualcuno dice che qualche un altro è un capo carismatico capo carismatico non è soltanto quello che si guadagna il consenso con queste macchine elettorali diciamo irresistibili è una figura unica Cesare lo è lo è stato perché ha capito che la massa militare era la classe decisiva il ceto decisivo nella crisi repubblicana non più la plebe urbana ma proprio le masse militari le legioni che sono il suo interlocutore e lui fa la stessa vita dei legionarchi non ha nessun privilegio dorme per terra con loro affronta più pericoli di loro e diventa il loro punto di riferimento si guadagna il carisma in quella maniera e muore nel modo che sappiamo Ottaviano poi Augusto non ha fatto nulla di tutto ciò ha cercato di avere una sua diciamo vitalità militare ma le battaglie le ha perse tutte le hanno vinte altre al posto suo a Azio è stato a Grippa a Filippi è stato Antonio a Modena è stato Irzio quindi non ha vinto mai da nessuna parte ma le truppe sono le legioni lo considerano il figlio di quell'uomo quindi la sua forza è il figlio non commette l'errore di Cesare di prolungare indefinitamente la magistratura straordinaria della dittatura Cesare non ha né abrogato la Repubblica né instaurato la monarchia quindi politicamente incerto sulla soluzione da adottare quindi ha inventato una cosa a Roma insostenibile di prolungare indefinitamente appunto a vita una magistratura che è per definizione a tempo definito la dittatura si può rinnovare si può rinnovare molte volte ma non può essere vitalizia e la congiura scatta in quel momento nelle resgeste dice Augusto mai assunsi la dittatura sebbene mi fosse offerta e quando ebbi eliminato tutti gli assassini di mio padre e posto termine alle guerre civili e ricomposto il consenso di tota Italia deposi il potere e riconsegnare la Repubblica al Senato al popolo romano perché è un capolavoro non solo perché nel medesimo istante diventa Augustus cioè ha una posizione superiore rispetto a tutte le altre cariche pubbliche ma perché conserva per sé la potestas consolare ovvero il consolato la potestas tribunicia quindi magistratura e contro magistratura nella stessa persona e lega all'imperatore cioè al princeps che è una figura non definibile dal punto di vista formale le province dotate di legioni quindi le truppe ce le ha lui le province del Senato sono senza legioni quindi il Senato è un insieme di grandi proprietari terrieri potentissimi senza truppe perciò è un capolavoro dal punto di vista costituzionale è un ripristino dell'ordinamento tradizionale dal punto di vista dei rapporti effettivi di potere e tutto il potere nelle mani del princeps e della sua cerchia naturalmente dove questa operazione durata per sua fortuna perché è vissuto molto mostra la corda quando muore perché in quel momento Tiberio diventa l'erede ma l'erede come figlio adottivo non è un problema anche lui era stato figlio adottivo di Cesare ma poi si era dovuto guadagnare il ruolo egemonico eredita anche il potere quindi la res pubblica diventa invece dinastica trasmissione familiare dinastica del potere da Augusto al suo figlio adottivo e la maschera della restaurazione repubblicana crolla lì è lì il punto in cui si rivela la natura effettiva dell'operazione che era stata compiuta e Tiberio ha qualche problema dinanzi a questo esito previsto prevedibile era anche malaticcio variamente quindi prima o poi doveva morire e quindi dinanzi al senato fa un discorso che tacito parafrasa in maniera ammirabile ruotante intorno al concetto non ce la posso fare non sono Augusto non ho la capacità grandezza di quell'uomo non ce la posso fare non ce la posso fare non ce la posso fare